Ma questa app però secondo lei è utile? Potrebbe essere utile ai fini del monitoraggio del contagio? Sì, è utile se i nostri amici italiani capiscono l'utilità. Perché dopo che non diventa una cosa utile adesso, è dannosa dopo. Perché non si sa mai. Allora la scarica o no? Allora per adesso io sicuramente sì. Pensa che sia utile a livello di monitoraggio? Certo. Non si sente violata la privacy? In questo caso no, anche perché da nascondere non ho niente, quindi insomma ben venga. Se serve la scarico di sicuro, insomma non sono un problema. Più monitorati di così? Non lo so. Non serve neanche la app? Esatto, siamo monitorati al 100%. Beh, sarebbe una grande opportunità, diciamo che in questo modo si potrà comunque controllare in miglior modo le persone, il circolo e tutto. Dopo che il virus resti o non resti, questo è relativo. No, non lo scaricherò di sicuro. Perché dice? Perché penso che la farà uno per mille. Se fosse obbligatoria allora tutti la farebbero, altrimenti scommetto che la farà una minima, proprio una minima parte. Ma la perplessità è sempre, diciamo, l'invasione alla privacy sostanzialmente. E poi se questo porta a un'utilità vedremo, vedremo, non lo so. Beneficio del dubbio? Esatto, il beneficio del dubbio. Grazie.